Sei sempre stato centrocampista, prima domanda, la seconda qual era il tuo, chiamiamolo idolo, punto di riferimento quando ero un ragazzo di 10-14 anni? Sì, prima o meno sono sempre stato centrocampista, fin da bambino magari mi metteva lì perché ero un po' anche irrequieto, correvo da tutte le parti, quindi mi mettevano in centro così bene o male potevo dovuto ovunque. E da piccolo avevo un po' questo idolo che era Schmeinsteiger perché io ero biondissimo in mezzo al campo, correvo, poi guardavo le partite, cercavo un po' di medesimarmi in lui.